Oggi per merenda, muffin super cioccolatosi. Prepararli è davvero facilissimo, servirà soltanto una forchetta o una frusta, niente sbattitore o planetaria, ma è risultato davvero incredibile. Sono non soltanto bellissimi, ma anche profumati e super soffici. Ne apriamo insieme? Guardate quanto sono cioccolatose e pieni di gocce di cioccolato. Dai, iniziamo a prepararli. All'interno di una ciotola mischiamo intanto gli ingredienti secchi, quindi versiamo la farina 00, lo zucchero semolato, il cacao amaro in polvere, il lievito vanigliato per dolci e un pizzico di bicarbonato. E iniziamo quindi a mischiare con una frusta. Dovremo ottenere un composto ben omogeneo, facendo attenzione ad eliminare eventuali grumi. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Dedichiamoci ora i liquidi che dovremo aggiungere via via all'interno di un'altra ciotola. Versiamo quindi il latte a temperatura ambiente, l'olio di semi, un uovo e dell'estratto di vaniglia. Amalgamiamo quindi tutti gli ingredienti sempre con una frusta. Ai liquidi aggiungiamo ora, qualche cucchiaiata alla volta, il mix di ingredienti secchi che abbiamo realizzato poco prima. Continueremo così fino a quando avremo incorporato completamente tutti gli ingredienti secchi. Non ci resta quindi che aggiungere le gocce di cioccolato fondente, che incorporeremo aiutandoci con una spatola. Dovremo ottenere questo risultato. Prendiamo ora uno stampo per muffin, al cui interno ho aggiunto dei pirottini in carta. Ma volendo potreste utilizzare anche questi. O quelli in cartone. Oppure potreste utilizzare anche dei pirottini in alluminio, che andranno imburrate e cosparsi con cacao maripolvere. All'interno di ogni pirottino aggiungiamo quindi il composto che abbiamo appena preparato. In questo modo. Non ci resta che aggiungere in superficie delle gocce di cioccolato, così da rendere ancora più golosi i nostri muffin. Faremo quindi cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per circa 25 minuti. Terminata la cottura, i nostri muffin al cioccolato sono pronti. Guardate un po' che belli, hanno un profumino davvero super invitante. Non resta quindi che farli freddare, poi potrete portarli a tavola. Ora come sempre vi lascio in epilogo di tutti gli ingredienti e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Per preparare i muffin al cioccolato serviranno 200 g di farina 00, 160 g di zucchero semolato, 80 g di olio di semi, 200 g di latte, un uovo, 40 g di cacao amare in polvere, 6 g di lievito vanigliato per dolci, un pizzico di bicarbonato, un cucchiaino di estratto di vaniglia, 120 g di goccio di cioccolato. La trovi su tuorlorosso.it Grazie a tutti!